L'U.S. Agropoli si conferma leader indiscussa del campionato di eccellenza Girone B che battendo per 4-1 la Palmese sale in classifica a 38 punti, seguita a tre punti di lunghezze dal San Tommaso e Audax Cervinara. Nell'Agropoli partiva dalla panchina Camanà, spazio dal primo minuto a Garofalo con Giura e Francesco Russo come coppia di centrali difensivi, in attacco tridente con Capozzoli, Dattilio e Tandara. Prima conclusione di gara al quinto per gli ospiti con il giovane Prevette, palla respinta in corner da Papalardo, dieci minuti dopo ancora pericolosa la squadra ospite tiro cross di Adiletta e girata di Ammaturo con palla che sibilava alla sinistra di Capone, al diciassettesimo su corner di Natiello Cibelli smanacciava, un minuto dopo il vantaggio ospite palla che partiva da Ammaturo che serviva a Prevette, diagonale perfetto, Capone battuto. Agropoli risponde con una buona occasione, al 22esimo cross di Capozzoli al bacio ma Papalardo non riusciva a battere Cibelli di testa, al 26esimo pari Delfino sugli sviluppi di un corner di Natiello, bravissimo Tandara a bruciare, coppola sul palo destro e con una girata violenta beffava Cibelli, al 31esimo sventagliata dai 30 metri di Masocco, palla alta. Al 40esimo cross di Tandara per Natiello, colpo di testa fuori di pochissimo, non accadeva più nulla fino alla fine di un primo tempo che terminava in parità. Ad inizio ripresa subito un'occasione per Prevette ma era strepitoso Capone a dire di no su un destro preciso. Al 49esimo Farriciello ci provava in area con una buona girata, palla alta. Al 52esimo rete del sorpasso Delfino, azione partita dalla destra ad opera di Dattilio, palla dalle parti di Capozzoli che scaricava un destro potente sulla ribattuta di Cibelli, si gettava Tandara per il gol del 2-1. Al 56esimo bella punizione a giro di Natiello, palla fuori di poco. Al 65esimo ci provava Dattilio dai 25 metri, bloccava Cibelli. Dopo un minuto strepitosa rete di Capozzoli, invenzione del fantasista di Aquara, che saltava secco maresca e infilava Cibelli da posizione defilata. Davvero una rete di pregevole fattura. Al 73esimo cross basso di Adiletta e tiro di Romano, bloccava Capone. Un minuto dopo arrivava anche il poker, l'esto masocco che con un destro al limite fulminava Cibelli a coronamento di un grande secondo tempo dei Delfini. All'85esimo bella combinazione tra i due neoentrati, Limatola e Pasqual, ma il tiro dell'argentino veniva bloccato da Cibelli. Non accadeva più nulla fino alla fine con i Delfini, che conquistavano l'ottava vittoria consecutiva. Nel prossimo turno l'US Agropoli farà visita al Castel San Giorgio dell'ex tecnico De Cesare. Siamo contenti. Il lavoro fatto in questi mesi ha prodotto ormai una squadra che gira bene. L'acquisto del centravanti Tandara ci ha dato maggiore velocità in attacco. Ha fatto cinque gol in quattro partite, quindi questo ci fa bene sperare per il futuro. Mi sembra di notare una squadra che più passa il tempo e più cresce in termini di consapevolezza e questo è importante per una squadra che ha obiettivi importanti. Però ora non pensiamo al futuro, pensiamo giornata per giornata sperando che le cose vadano bene. Dobbiamo dire però che all'inizio del primo tempo abbiamo visto una US Agropoli timida. Sì, probabilmente bisognava prendere lo schiaffo iniziale del gol della Palmese perché i ragazzi si svegliassero. È andata bene così. Se devono finire così le partite si può cominciare anche perdendo 1-0. Che cosa possiamo dire sindaco ai tifosi dell'Agropoli affinché possano riempire lo stadio la domenica? Facciamo un annuncio. Che possiamo dire? La squadra gioca bene, quindi penso che ci sia tutta la possibilità di venersi a divertire qui allo stadio. Noi ci auguriamo che almeno ci sia da parte loro la disponibilità venirci a trovare almeno una volta perché penso che è una domenica passata bene questa qua. Capisco gli orari difficili, le due e mezza, molti sono ancora a tavola naturalmente per la domenica. Però dedicare almeno un paio di volte al mese una domenica alla nostra squadra di calcio penso sia una cosa bella da fare. Ci auguriamo che vengano numerosi.